amici di corse moto tv fresco fresco da australia qui aveva le lunga ieri montella ciao iari c'è ragazzi buongiorno allora doppietta punteggio pieno diciamo che quello che l'australia ha tolto nel 23 ha ridato direi con gli interessi iari più più iva io credo che neanche nei tuoi sogni più proibiti pensassi di poter tornare la casa philippa island a 50 punti ma soprattutto con la consapevolezza che sei là davanti e sarei uno di quelli da battere ma allora diciamo la consapevolezza di essere di avere un bel pacchetto ecco tecnico moto pilota lo sapevamo siamo abbiamo lavorato tutto questo inverno proprio consapevole di quello è normale che poi fare 50 punti ecco tornare a casa con due vittorie non l'avevamo messi in programma però ben venga sono arrivate va bene così l'abbiamo detto anche durante l'inverno no inizio di stagione del 23 difficile poi in realtà una seconda parte stagione dove si vedeva che c'era competitività però arrivare vincere dare un segnale forte agli avversari che sappiamo la 600 spazio mondiale è una categoria piuttosto delicata ecco con quale approccio mentale si va ora verso barcellone comunque verso prosegue la stagione cioè immagino che tu sia fortificato emotivamente ma diciamo che l'anno scorso i risultati sono arrivati nel momento in cui ho proprio iniziato a lavorare a livello mentale col mio mente al trainer abbiamo stiamo ecco facendo un percorso proprio di allenamento perché mi ero mi ero accorto che che non riuscivo a gestire determinate situazioni durante un weekend di gara e nel momento in cui ecco siamo abbiamo iniziato questo percorso ho iniziato a vedere il weekend di gara in maniera diversa a viverlo proprio in maniera diversa e l'approccio adesso è semplicemente quello di di pensarla gara dopo gara cioè io adesso fai fatica si puoi dire che puoi essere un pretendente al titolo ma è la prima gara ce ne mancano altre 11 è veramente lunghissimo il campionato poi è un campionato veramente quest'anno particolare perché ci sono avversari come Schrottere con l'MV ma anzi con lo stesso Wertas con Ducati, Onciu sicuramente arriverà qualche gara col Kawasaki e tanti altri avversari tra il suo Foglu, la situazione, Carica Sulo, me l'aspetto che che saranno lì arriveranno prima o poi. In effetti è un bel pacchetto di mischia. Sì sì quindi bisogna stare abbastanza concentrati e prenderla e prendere la situazione gara dopo gara cioè viverla un po' così. Diciamo che l'approccio di cui parla Iari è quello che i calcoli cominciamo a farli verso fine stagione quindi da metà in poi da metà in poi uno inizia già a capire più o meno l'andazzo ecco come è andato e puoi avere un'idea ma anche lì poi devi stare attendo perché è un attimo perderlo. Sì poi insomma siamo veramente all'inizio però chi ben comincia metà dell'opera sei venuto qui a Vallelunga a sfruttare due giorni comunque di test perché no girare non fa mai male ecco cosa cosa stai provando o stai semplicemente il tuo obiettivo è stare in moto? Ma in questo momento non sto provando niente sto con la mia moto d'allenamento sto io il mio furgone e il mio meccanico quindi. No perché ho visto che c'è giustamente il Tibani sei ovviamente allocato da loro. Ospite nel box del Tibani. Diciamo che non hai perso l'occasione per stare in moto giustamente. Esatto cioè piuttosto che stare a casa e magari andare a correre a piedi o fare bicicletta vengo in modo che preferisco. Insomma Vallelunga è anche uno dei pochi circuiti vicino a casa tua ricordiamolo Iari ovviamente è di Salerno. Senti Barcellona mancano poche settimane come vedi la trasferta soprattutto pensando alla pista cioè è un circuito che ti si adatta è un circuito dove ti trovi bene c'è feeling oppure dove dovrai insomma come si dice avere un po' di di tribolare un po'. Ma la pista mi piace molto particolare e bella allo stesso tempo però l'anno scorso è stata la nostra peggior gara dell'anno il nostro peggior weekend quindi sono veramente curioso di arrivare lì e capire quello che può uscirne fuori Ti aspettavi? Ti faccio una domanda visto che tu corri nel mondiale Super Sport 600 un Bullega che da campione del mondo di categoria passa alla Superbike e fa un weekend insomma importante. Ecco guardando Bullega nella tua testa un qualche meccanismo che ti dice Iari il salto si può fare è fatto anche bene. C'è già? Comincia a pensarci a guardarci? Ma me lo aspettavo forte sicuramente ma non così tanto Ness ma credo nel padro che nessuno se lo sarebbe mai aspettato così forte Sì posso pensarci ma diciamo che va bene perché dà più valore anche al campionato Super Sport Allo stesso tempo io credo che il passaggio sia molto anche soggettivo cioè non è detto che io quest'anno potrei andare anche più forte di Bullega in Super Sport e magari l'anno prossimo fare peggio di più in Superbike quindi credo che l'approccio sia molto soggettivo e dipenda molto da tanti fattori secondo me Team Barney in festa perché tu ti sei portato a casa due vittorie ma il Superbike Danilone Petrucci ha fatto benissimo immagino la gioia anche a livello team principal Marco Barnabò no? Aiuta questo l'atmosfera del team no? Ma senza dubbio senza dubbio è stato veramente un bel weekend a 360 gradi cioè io spero che magari i miei buoni risultati abbiano dato a Petrucci quel guizzo in più per cercare di... esatto cioè qualcosa perché alla fine ho corso sempre prima di lui quindi lui è entrato con quel... però dai no a parte i scherzi sono veramente contento cioè del weekend come è andato Marco contentissimo quindi va bene così diciamo che la prossima volta che tornerai in Australia ci torni con cuore leggero insomma con dei bei ricordi l'ultima cosa l'anno scorso abbiamo visto al CIV fare qualche wildcard perché ovviamente ho sfruttato ogni occasione possibile per provare c'è possibilità a prescindere dai risultati che otterrà nel mondiale a prescindere dalla classifica di rivedervi o rivederti ovviamente con Team Barney fare qualche wildcard al CIV? ma quest'anno la vedo un po' difficile per il fatto che si utilizzano gomme diverse quindi non avrebbe molto senso per me fare il CIV utilizzando gomme diverse da quelle del mondiale cioè credo ho sentito un po' di piloti di ragazzi che conosco che sono qui e sono gomme completamente diverse va guidata in maniera diversa la moto messa in maniera diversa quindi non credo però mai dire mai il principio è non cerchiamo Cironia quando non c'è bisogno bravo Iari in bocca al lupo ovviamente per Montmelò per la Catalunia grazie mille ciao ragazzi ciao